Quando è stata l'ultima volta che ha sentito sua sorella? Quasi 20 minuti fa, ho tentato anche 10 minuti fa, però non ho avuto risultato. Però sì, siamo in continuazione fra i messaggi di WhatsApp. Per fortuna che funziona ancora quello. In queste ore drammatiche c'è un filo diretto che lega Venezia a Kabul. Hamed Ahmadi lavora a Venezia dove vive da 15 anni con tutta la famiglia. Sua sorella Zara, l'unica parente rimasta in Afghanistan, ha raggiunto l'aeroporto poco prima che i talebani occupassero la capitale. Ma ora i talebani sono entrati anche nell'area passeggeri dell'aeroporto. Per Zara il passaggio nell'area militare e l'imbarco su un aereo per l'Italia sarebbe una questione di pochi metri. Mia sorella è un attivista per i diritti delle donne ed anche un'imprenditrice. e negli ultimi periodi si è esposta anche con la speranza che si può combattere con i talebani. Si è esposta, era sempre attiva nelle manifestazioni eccetera. Abbiamo paura e lei è impaurita per quanto è coraggiosa della situazione. Se la trovino e se la scoprino non sarà una situazione molto felice. Zara non è solo un'attivista, è una giovane imprenditrice che tra pochi giorni avrebbe inaugurato il suo secondo ristorante. Una figura di donna emancipata e indipendente improvvisamente incompatibile con la società che si prospetta per la sua nazione. Io ho cinque sorelle e lei è stata sempre quella più attiva degli altri e molto coraggiosa. Ha già la sua scelta di poter, di voler rimanere lì e lottare nel paese più maschilista del mondo significa questo. Io spero che arrivi qua anche perché può essere una soluzione, è una grande soluzione lavorativa anche per me. Ahmed è il fondatore della catena di ristoranti Orient Experience, nata a Venezia da rifugiati politici e richiedenti asilo. A Venezia Zara ritroverebbe tutta la famiglia in un posto di lavoro. È una donna coraggiosa, una donna che si è messa in gioco, che non ha avuto paura di rischiare, di accettare sfide difficilissime, di rimanere nella sua città per aiutare il suo paese. Ma ora è lei che ha bisogno di aiuto e basterebbe pochissimo. La Farnesina, tipo l'ambasciatore italiano, sa già della situazione. Spero che solo che manca l'ultimo passaggio perché la parte militare è circondata dagli americani e che si avvicina e sparano.